Termina 0-0 a rating violate a Lugano, la finale playoff per l'assegnazione dell'ultimo posto disponibile per la Serie B. Uno 0-0 che rimanda il tutto alla Moca Gatta, giovedì pomeriggio, nel tardo pomeriggio della Moca Gatta. Scopriremo chi tra Padua e Alessandra, chi tra la squadra di Andrea Mandorlini e quella di Moreno Longo, riuscirà a effettuare l'ultimo exploit, l'exploit decisivo per volare in Serie B, per volare in cadetteria. Ci servirà l'ennesima impresa stagionale, l'ennesima vittoria lontano da Lugano dopo la vittoria al Città di Meda due settimane fa contro il Renate di Almodiana, l'impresa al Partenio con il gol di Simone della Latta appena pochi giorni fa. Ecco, peccato, partiamo subito da un fatto negativo di giornata, l'ammunizione, il giallo al difidato, al nostro centrocampista, a colui che ha dato tutto quest'oggi a Lugano e che ha colpito purtroppo anche una traversa. Grazie di tutto Simone della Latta perché quest'oggi hai dimostrato quanto ci tieni, quanto ci tieni a questa maglia. Un altro giocatore significativo di giornata è Emil Alfredson, il migliore in campo secondo il mio punto di vista. Le solite note negative sono lì davanti, ok, anche le assenze come Ronaldo, Pompeo da Silva, l'assenza di Cosimo, chi ricorda il nostro fantasista, del nostro migliore giocatore dopo il giallo preso all'appartegno. Una munizione pesante perché l'assenza della numero 32 si è fatta sentire quest'oggi a Lugano, forse anche più del dovuto. Ma la coppia formata da Tommaso Biasci e Daniele Paponi quest'oggi è assolutamente insufficiente. Paponi impresentabile secondo il mio punto di vista, che potrà chiudere la stagione con zero reti siglate. Questo è sicuramente un dato di fatto davvero molto pesante perché, come nell'altra sfida, come nell'altra doppia sfida dall'altra parte, c'è una bomber che invece ha segnato più di dieci reti. Stiamo parlando di Andrea Arighini, che però quest'oggi non si è visto più del dovuto lì davanti per i grigi di Moreno Longo, che hanno avuto una chance per tempo, una chance per tempo anche per la formazione di Andrea Mandorlini, che poi dopo la traversa alla sessantesimo colpita da Simone della Latta, secondo il mio punto di vista la benzina era finita. Quindi si è pensato che 1-0-0, un pareggio, sarebbe stato il risultato migliore per volare al Mokagata come 12 anni fa. Come 12 anni fa, esattamente lo stesso risultato di quel 14 giugno del 2009, sempre stadio Ugano, Padova contro Propatria, contro la formazione di Franco Lerda. Ecco, quel 21 giugno del 2009 riuscimo, grazie alla doppietta di Antonio Leonardo, a volare in Serie B, a ritornare nella Serie Cadetta. Invece giugno pomeriggio alla Mokagata ci servirà ancora una vittoria, ancora una volta una vittoria. I tre punti per centrare questa promozione che meritiamo, che meritiamo assolutamente per la stagione che abbiamo effettuato, però davanti abbiamo una signor squadra, davanti abbiamo una formazione che si difende davvero molto molto bene e che quando riparte fa paura, perché quest'oggi, su due disattenzioni difensive, la formazione di Monero Longo stava per fare il colpaccio. sto parlando ovviamente delle tiro cross di Parodi, sulla non comunicazione tra Dini e Rossettini, l'occasione per Bruccini, che non riesce a mettere dentro la porta sguarnita di un disattento Andrea Dini, sulla cross di Chiarello, vola Corazza ma vola anche il nostro estremo difensore che risponde presente sulla colpo di testa di Corazza. Alta triangolazione questa volta sull'asse Giorno, Chiarello-Corazza alla quarta cinquesimo, grande chance ancora per la formazione di Moreno Longo. Il Palava crea una grande chance al ventottesimo, su una ripartenza Alfredson a file a vuoto, c'è la grande risposta di Pisseri in calcio d'angolo. Al trentaquattresimo su un'imbucata di Elei, Jelenic che trova, che trova la corsa di Tomaso Biasci, che però davanti a Pisseri non riesce a battere l'estremo difensore dei grigi. Davvero una grande chance per l'ex attaccante della Carpi, che rimane a quota due reti segnate. Però sono state due reti quasi ininfluenti. Purtroppo l'arrivo di Tomaso Biasci non è stato quello che tutti noi tifosi biancoscudati, che la società si aspettava per rafforzare il reparto offensivo. Ancora una volta assente Francesco Nicastro, ancora una volta assente. Anche Caramoco si sè. Rivediamo in campo nel secondo tempo Marco Firenze. Potrebbe essere un'arma, vista l'assenza di Simone della Latta alla Mocagata e a un'altra situazione che voglio analizzare. Lo scorso anno il Palma si fermò sempre alla Mocagata contro la Juventus. Andre 23, il gioco del destino, lo scherzo del destino, invece ha voluto un'altra partita decisiva, un'altra partita da dentro o fuori. Questa volta sempre alla Mocagata, questa volta contro l'Alessandra di Moreno Lungo. 39 punti nel girone A, in a casa, davanti alle proprie mura, ci vorrà un'impresa. Ci vorrà un'impresa perché sarà una partita che si giocherà all'interno dei 90 minuti, può essere anche all'interno dei 120, può essere anche che sia necessaria la lotteria dei calci di rigore. Ci vorrà l'impresa, ci vorrà l'ennesima impresa, come siamo stati chiamati a vincere alla Città di Meda e abbiamo vinto. Grazie alla tripleta, grazie allo show personale di Cosimo Kidicò. Siamo stati chiamati a vincere al Partenio e abbiamo vinto, grazie al mischia vincente al gol di Simone della Latta. E adesso siamo chiamati a vincere anche al Mocagata. Purtroppo in tre partite casalinghe, una sconfitta e due pareggi. È un bottino magro se pensiamo che la Padova era stata comunque una formazione che in casa aveva lasciato pochissimi punti nel Gione B di Serie C. Mancano 90 minuti, mancano forse 120 minuti, manca forse anche una lotteria dei calci di rigore per quel sogno, quel sogno che è sempre più vicino e che dobbiamo afferarlo, dobbiamo prenderlo, dobbiamo farlo nostro. Perché giovedì sera, giovedì nel tardo pomeriggio della Mocagata, vivremo 90 minuti, vivremo una partita da dentro o fuori. che segnala anche il destino di molti giocatori, dell'allenatore e forse anche del nostro direttore sportivo, della società. Perché giovedì pomeriggio sarà troppo importante per il destino della nostra squadra, del nostro biancoscudo, del nostro calciopalove. Quindi, ragazzi, dobbiamo crederci, dobbiamo crederci. Mancano ancora 90 minuti. Purtroppo finisce 0-0. La reti inviolate, quindi la gara d'andata si archivia come se non si fosse giocata. Questa è la regola assurda, la regola assurda di questa annata. Siamo chiamate l'impresa. Io ci credo e voi ci credete? Io ci credo e voi ci credete? Questa è la domanda a chi vi pongo, che vi lascio anche nei commenti. Io vi saluto con una grandissima Forza Padova! Mi ringrazio per l'attenzione, lasciatemi sui like al video, iscriviti come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video. Forza Padova!